Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video ed oggi torniamo a parlare di fotografia o meglio torniamo a parlare di corpi fotografici ebbene sì perché Sony ha annunciato e presentato la nuova ZV-E10 si allarga la famiglia dei componenti dei corpi macchina che Sony dedica al mondo del creative content ebbene sì Sony vede nel mondo del vlogging il futuro e quindi l'azienda ci crede e ha creato praticamente una linea dedicata in un modo un pochino naturalmente furbo perché va a prendere tutto quello che è di buono nei corpi che già esistono del suo parco macchine e ne va ad aggiungere quelle piccole caratteristiche dedicate proprio ai content creator per me questa scelta è davvero molto interessante perché Sony è il primo grande brand che realizza dei corpi macchina dedicati al mondo del self-made quindi del content creation autoprodotto mentre tutti gli altri brand al contrario prendono i loro corpi macchina e li dedicano anche a quella funzione lì quindi alla funzione di creazione di contenuti per il web c'è una sostanziale differenza a mio parere tra le due scelte la scelta che ha fatto Sony probabilmente la sta premiando partiamo dal presupposto che finisco questo cappello introduttivo e poi andiamo a parlare della ZV-E10 partiamo dal presupposto che chi vuole cominciare a creare contenuti sul web o chi già li crea contenuti sul web non è detto che sia un esperto videomaker o che abbia uno staff di persone che possano realizzare i contenuti di una certa qualità allora Sony cosa ha pensato ha detto bene prendo una serie di corpi macchina che io realizzo e ne faccio una versione con delle funzioni specifiche dedicate proprio a chi realizza contenuti sul web ed è questa cosa che la rendono rendono questi corpi interessanti e gli danno un senso sul web gli danno un senso nel mercato odierno perché all'interno di questa categoria delle ZV che per ora conta soltanto due corpi macchina parliamo della ZV-E1 compatta e questa ZV-E10 sono realmente due sorelle di due corpi che già esistono la ZV-E1 sorella della RX100 Mark V ancora in vendita tra le altre cose come modello la RX100 Mark V se non vado errato e questa ZV-E10 potremmo dire che è un ibrido tra una Sony Alpha 6100 e una Sony Alpha 6400 quindi la prima cosa verrebbe da dire se esistono già questi corpi macchina perché dovrei puntare sull'acquisto di una ZV-E10 beh ci sono i motivi ma andiamo subito a vedere quelle che sono le specifiche chiavi di questo corpo macchina e quali sono secondo me i punti di forza e qualche punto debole che vanno un attimo analizzati allora partiamo da quelle che sono le specifiche chiave abbiamo un sensore da 24 megapixel probabilmente non sono riuscito a trovare altre informazioni derivante proprio da corpi come a6400 e a6100 abbiamo un autofocus sistema di autofocus che legge anche gli occhi quindi con l'eye detection che proviene dalle sorelle maggiori come per esempio la ZV-E10 ha questo sistema che è stato introdotto in altri modelli di fascia superiore abbiamo la possibilità di registrare video in 4k 24p oppure a 30p e 25p con un leggero crop del sensore questa cosa per esempio avviene sull'a6100 per questo pensavo che parte dell'hardware è preso proprio dall'a6100 e parte invece no anche perché se prendiamo queste funzioni quindi abbiamo la possibilità di registrare in 4k solo a 24p a sensore pieno mentre abbiamo un leggero crop a 30p quindi probabilmente anche a 25 non ho avuto modo di provare questo corpo macchina a differenza dell'a6100 prende tutti quelli che sono i profili colore professionali come l'S-Log 2 l'S-Log 3 l'HLG e tutte le loro personalizzazioni questa cosa per esempio la troviamo all'interno delle APS-C di famiglia un pochino più elevata come la 6004 la 6006 e via come ad esempio anche la registrazione in 1080p fino a 120 fotogrammi al secondo anche qui però abbiamo un crop del sensore ma una cosa particolare la troviamo nel corpo macchina beh perché il corpo è stato ridisegnato e migliorato e adesso ha un'estetica molto simile a quella della ZV1 ma naturalmente andando ad ampliare quello che rispetto alla ZV1 che è un corpo un pochino più piccolo questa invece è questa è una 6400 a 6100 migliorata esteticamente migliorata perché perché ha tutti i comandi al posto giusto proprio per un content creator e tra le altre cose troviamo lo schermino totalmente articolabile ormai si è capito che Sony lo metterà praticamente tutti i corpi macchine l'abbiamo visto sulle top di gamma come la 7S3 abbiamo visto sulla ZV1 lo vediamo adesso qui quindi aspettiamoci le altre APS-C e le altre full frame di casa a Sony con ormai il monitor flippabile completamente articolabile questa è una cosa assolutamente positiva troviamo il jack per le cuffie è un sistema di microfoni come quello della ZV1 quindi molto intelligente troviamo anche un piccolo dead cut disponibile all'interno della confezione per utilizzare il microfono della camera migliore rispetto a quello di per esempio la 6400 che necessita per forza un microfono esterno con la ZV10 possiamo utilizzare anche il microfono incorporato non è dei migliori naturalmente si può ottenere sempre meglio quindi abbiamo la possibilità grazie al jack da 3,5 pollici di mettere un microfono esterno utilizzare un microfono a pulce radio quello che vogliamo e collegarlo all'interno del corpo macchina abbiamo naturalmente la Z8 Show per poterlo collegare e non solo la Z8 Show come per i corpi di ultima generazione ha la possibilità di innestare microfoni digitali di Sony per prendere direttamente il segnale come la 7C come la 7S3 quindi abbiamo la possibilità anche grazie al microfono presentato poco fa che è l'ECMW2BT che è un microfono wireless abbiamo il ricevitore il trasmettitore possiamo collegare il ricevitore sulla macchina la macchina tramite i contatti del hot show leggerà subito il segnale e andrà a registrare insieme al nostro video cos'altro abbiamo abbiamo il jack per le cuffie la possibilità una cosa molto interessante special modo per chi fa content creation che è la possibilità di utilizzare tramite la porta USB di tipo C la camera come webcam senza bisogno di altri di altri strumenti tra soltanto il software di Sony ci permette di leggere quel corpo macchina come una webcam insomma utilizzarla anche per le live stream questa è una cosa molto interessante dichiarato l'utilizzo della batteria la capacità della batteria fino a 440 fotogrammi e circa 80 minuti di registrazione continua quindi non è assolutamente male un'altra cosa interessante proprio dedicata a chi realizza contenuti sul web è il fatto che se giriamo la camera in modalità verticale la camera leggerà l'informazione quindi registrerà dei video in verticale cosa fondamentale senza perché altrimenti avremmo dovuto prendere il file in post produzione e girarlo di 90 gradi mancanza non vi è uno stabilizzatore del sensore quindi non vi è l'ibis sì questa è una di quelle mancanze che si fa sentire ma questa mancanza è data dal fatto che abbiamo un corpo un pochino più piccolo costi più contenuti naturalmente e che la maggior parte dei content creator normalmente lavora con una camera con questo setup quindi ferma su un cavalletto tra le altre cose c'è la possibilità di utilizzo con il telecomando barra cavalletto bluetooth di sony vi lascio qui sotto il link in descrizione non ricordo il nome del modello molto comodo special modo per chi la utilizza in questa configurazione naturalmente non vi ho detto che o forse l'avrò detto che è un sensore da 24 megapixel mai a psc quindi abbiamo un sensore più grande rispetto a quello della zv1 che dovrebbe essere da un pollice se non mi ha derrato e abbiamo la possibilità di cambiare le lenti quindi questa è la grande differenza e abbiamo un parco lenti sony molto interessante a partire da quelle per apsc potete utilizzare anche quelle per full frame naturalmente più costose e più grandi abbiamo delle lenti fantastiche nel parco sony per apsc e mi viene in mente la migliore lente per vlogging che il 10 18 f4 che tra le altre cose vedevo sul sito di foto e ma che in bundle c'è un bundle con il 10 18 si risparmiano un pochino di soldini come dicevo questa zv10 porta con sé quelle feature inserite nella zv1 molto interessanti dedicate proprio ai content creator e non ai content creator pro tra virgolette quelli che sono dei videomaker o hanno delle capacità tecniche un pochino più avanzate ma parliamo dei content creator che non hanno queste competenze quindi che hanno appena cominciato vogliono iniziare o semplicemente sono bravi in quello che loro fanno ma non sono bravi a utilizzare la camera e molti hanno il desiderio ad esempio di ottenere un risultato faccio un esempio proprio stupido quello dell'ottenere lo sfondo sfocato all'interno dei video beh questa cosa per chi è un videomaker un fotografo sa come si ottiene qual è il compromesso tecnico per ottenere questa cosa cioè aprire tutto il diaframma sostanzialmente della lente e sony nella zv1 ha introdotto questa funzione che un proprio un pulsantino fisico che si chiama forse non vabbè si chiama non mi ricordo il nome in inglese ho scritto sfocare lo sfondo preso questo appunto e in pratica c'è un pulsantino che dà un'informazione alla camera dice vai in priorità di diaframmi apri tutto il diaframma al massimo che puoi e regola la macchina in quel modo così facendo sembrerà che noi otteniamo più sfocato dietro semplicemente perché se siamo al sole naturalmente la macchina in modalità programma automatico tenderà a bilanciare diaframma e tempi per mantenere i tempi un pochino più bassi e chiuderà molto il diaframma così facendo invece diamo alla macchina il comando di lavorare in priorità di diaframma quindi aprirà il diaframma al massimo che può e andrà a bilanciare con il resto dei parametri che siano iso e tempi e così otterremo uno sfondo più sfocato con un semplice clic questa cosa è fondamentale importantissima proprio per chi non ha le competenze necessarie e questa è una di quelle cose che mi piace di sony il fatto che si avvicini anche a chi non ha le piene competenze gli dà lo strumento per far meglio ecco e ci sono un altro paio di cose interessantissime ce n'è una che io amo che è quella del bordo rosso quando si va in registrazione chi si registra da solo per la maggior parte sa che quando si va a registrare un contenuto compare un pallino rosso sul monitor da qualche parte nel monitor con le telecamere è tutto diverso perché avevamo una serie di led che si accendevano tanto tempo fa quando si utilizzavano le telecamere si accendevano dei led rossi che indicavano che stavamo registrando adesso invece a un monitor ci compare questo pallino rosso beh sony ha introdotto un frame rosso attorno all'inquadratura c'è la possibilità di attivare e disattivarlo ma attivandolo ci ricorda che stiamo registrando e questa è una cosa visiva importantissima proprio per ottenere il nostro risultato poi ce n'è un'altra importante che è una feature inserita già nella zv1 che in pratica il sistema di autofocus showcase è una cosa che una funzione che si può attivare e disattivare e ci permette di vorrei fare un esempio un telecomando se io sono uno youtuber un content creator che mostra prodotti quindi che compra prodotti li vuole mostrare a un certo punto mi capiterà di fare questo in questo caso la mia macchina da presa continua a mettere a fuoco me perché sono io il soggetto adesso aveva messo a fuoco il telecomando io dovrei fare in questo modo copirmi la faccia aspettare che la camera decida di inquadrare il telecomando e non lo fa quindi considerato che questo sia un prodotto questo sistema di autofocus permette di mostrare alla camera un oggetto la camera capirà che deve mettere a fuoco questo quindi passerà al fuoco su questo oggetto togliendolo poi ritornerà a fuoco sul soggetto che sta parlando e questa è una di quelle funzioni molto interessanti per noi che facciamo che sappiamo cosa significa mettere a fuoco normalmente dobbiamo fare così mettere una mano dietro fare in modo che non ci veda mette a fuoco mostrare l'oggetto e togliere la mano insomma è un pochino più macchinoso mentre con queste funzioni molto dedicate a chi fa questo e sono molto molto interessanti nelle mie considerazioni normalmente chiudo sempre con per chi è questo prodotto beh perché questo prodotto beh per i content creator per chi vuole aprire un canale youtube per chi vuole dedicarsi alla creazione di contenuti su instagram su facebook su tiktok su insomma su tutte le piattaforme social ma aumentare leggermente non leggermente tanto quella 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 che è la qualità rispetto allo smartphone sono dei prodotti davvero molto interessanti infatti butto davvero un ottimo occhio su questa gamma di prodotti zv che ha fatto sony perché sono molto interessanti proprio nell'approccio che hanno verso il loro pubblico target e questa è la cosa più interessante del mondo vi faccio ad esempio un enorme esempio sempre lo stesso concetto panasonic fa lo fatto la stessa cosa presentando la giacca 5 mark 2 ultimamente che è una camera molto avanzata e con un costo piuttosto elevato perché parliamo quasi del doppio del costo del corpo camera rispetto alla zv 10 e ha dedicato quel quel aggiornamento della giacca 5 quindi questa giacca 5 mark 2 ai content creator per poi introdurre la giacca 6 che uscirà a fine anno e dedicarla ai videomaker è una scelta piuttosto azzardata perché sia fatto un po quello che ha fatto sony ma rimane comunque un corpo macchina molto molto complesso con tante funzioni in più e tante possibilità per i videomaker avanzati per questo la scelta di sony di avvicinarsi a un pubblico che ha meno competenze la trovo davvero interessante come il prezzo tra le altre cose perché andando a vedere un pochino sul web ho trovato l'offerta trovato al prezzo di lancio su fotoema.it 750 euro e corpo solo corpo camera ed è un prezzo molto interessante perché andiamo proprio nella fascia di prezzo della A6400 insomma di quei corpi macchina lì anche se non è la stessa famiglia ma si avvicinano molto e gli da un senso proprio allineati a quei corpi macchina perché scegliere uno perché scegliere l'altro beh perché questo corpo macchina ha tutta una serie di feature dedicate proprio a chi non ha le piene competenze del mondo del videomaking ma vuole comunque produrre dei contenuti per il web insomma io spero che questo video vi vi abbia dato le informazioni che cercavate sulla ZV E10 e se avete qualche domanda potete scrivermi qui sotto nei commenti non dimenticatemi di seguirmi anche su instagram perché lì cerco di pubblicare quando posso qualcosina in più lavoro permettendo e cos'altro dirvi beh è assolutamente nulla se non siete ancora iscritti a questo canale fatelo mettete un mi piace attivate la campanellina insomma le solite cose che si dicono da buon youtuber alla fine di un video io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao 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 ciao